buongiorno condivido allora condivido lo schermo così vediamo di allora eccoci qua allora io sono maurizio testa appunto sono presidente della società artes ecco non tutti sanno che artes è un acronimo vuol dire animazione relazione e turismo esperienziale quindi si è svelato l'arcano e come mai artesse perché piaceva sembrava una cosa diciamo così artigianato arte sembrava un buon acronimo ecco ed è diventato il nome dell'azienda il nome del progetto di cui magari adesso accenderemo un attimo e anche la linea di business dell'azienda appunto artes che si occupa la artes ha due linee di business una che si occupa di formazione consulenza progettazione progetti di destinazione destination management marketing del territorio e dall'altra parte abbiamo anche il club di prodotto joint place ecco sto anche per me da un attimo tempo perché appunto mi sembra che stanno entrando ancora un po di persone e allora aspettate che allora beh diciamo che colgo l'opportunità per fare una veloce presentazione di alcuni ragionamenti di cui se avete seguito anche altri nostri webinar un po ne ho già parlato in altri momenti ma velocemente li assumo per chi non ha partecipato ad altri webinar organizzati da noi del progetto artes allora noi non possiamo diciamo non possiamo parlare di niente se non prendendo atto della situazione del mercato di oggi perché qualsiasi cosa che faremo siamo in un mercato che nei prossimi due tre quattro anni adesso dipende difficilissimo dire ma non non è più quello di prima insomma abbiamo avuto una crescita incredibile fino al 2019 anche l'italia nel 2019 ha fatto un ottimo un ottimo saltino avanti 6,7 per cento di crescita più del mercato quindi l'italia ha performato bene l'anno scorso ecco diciamo che i prossimi anni il mercato o ce n'è poco o comunque è più piccolo rispetto alla torta più piccola del solito il che vuol dire che la competizione sarà più agguerita tra chi tra milano e palermo no la competizione sarà tra tutte le nazioni che vogliono accedere al mercato del turismo e tutti vogliono essere destinazione turistica e tutti quelli che hanno poco al maggior ragione cerca uno spazio inventandosi cose nuove così comincio a dire che la nuova zelanda che non ha un turismo sviluppatissimo però dal punto di vista dell'innovazione top le cose più importanti che voi trovate in giro per il mondo le trovate nella filiera della nuova zelanda ecco questo per dire che per anticipare un ragionamento che è il 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 seguente cioè l'italia si vende da sola l'italia solita l'italia che si vende da sola e la solita italia il che vuol dire che se noi siamo arrivati ad essere sesti abbiamo perso una posizione nel 2019 la gran bretagna ci ha superato sulla sui ricavi di incoming la gran bretagna ok quindi vuol dire che noi pur crescendo e non poco bene però perdiamo quota di mercato quindi se facciamo la differenza rispetto alla spagna che fa 68 miliardi di euro di incoming fa faceva 64 64 68 miliardi di euro noi ne facciamo 44 45 adesso memoria vado così è chiaro che c'è un problema che questi faranno quasi una volta e mezza per cui la spagna che è un pil che è la metà dell'italia è diciamo in europa la nazione che fattura di più come turismo quindi italia non ha motivo di avere teoricamente meno della spagna ecco la francia ha il numero maggiore di arrivi ma viene appena dopo appena dopo la la spagna quindi queste nazioni hanno sono considerate nazioni che fanno un'industria del turismo quindi cosa vuol dire che il turismo che diciamo intermediato tenderebbe a preferire queste nazioni rispetto a un turismo un fai da te che invece il nostro dove la gente viene socializza il viaggio che ha tante cose belle ma è un turismo un po più povero quindi se noi vogliamo aumentare il livello dobbiamo aumentare appunto vediamo un attimo la prossima slide ecco distinguersi per non morire cioè quando c'è un problema di mercato che soffre o abbassi i prezzi o cerchi di innovazione qualcosa che ti distingua allora tu abbassare i prezzi dovrebbe essere l'ultima razio ecco noi siamo qui alla bitesp a mettere con tutti questi webinar tutte queste diciamo seminari mettere in pista una serie di esempi situazioni casi di successo idee progettazioni che possano stimolare il pubblico quindi voi che ascoltate a cercare idee per distinguerli perché se non ci distinguiamo avete solamente la leva del prezzo se va bene se va bene allora velocemente dico cose che ormai stanno diventando ovvie ma non lo erano qualche anno fa adesso sono quasi ovvie quindi la motivazione del viaggio sta cambiando quindi il turista dice ma io cosa farò seguo le mie passioni quindi certamente il turista che non è mai stato a vedere roma vorrà vedere il colosseo vorrà fare un giro per venezia a firenze e quindi turista straniero stiamo parlando di turismo straniero che non ha mai visto niente verrà a fare il turista cosiddetto checklist quindi si farà un po di capitale d'europa vedrà un po le cose tra quattro città d'italia e poi scappa via però grazie a dio c'è anche molto turismo di ritorno c'è un turismo anche diciamo di uno slow turismo ci sono tanti turista che stanno nascendo a livello mondiale che si occupano di questo per cui sempre di più è dalla appunto dal colosseo con con le code eccetera a invece un turismo dove queste mani alzate dovrebbero voler dire che il turista appunto è protagonista quindi da una parte abbiamo il colosseo le spiagge le camere da letto noi abbiamo tante tante spiagge che certamente vedere continueremo a vendere spiagge non è che l'italia non venderà più le spiagge però certamente che c'è un riposizionamento su emozioni relazioni e tematismi quindi sono argomenti che toccano altre leve al di là ecco del quindi diciamo che da una parte c'è un turismo diciamo abbastanza delle solite cose e dall'altra parte c'è un turismo invece che si distingue perché coinvolge il turista sempre di più il peso delle activities che storicamente un 10 per cento non ho la statistica ma probabilmente rispetto alla motivazione di viaggio non dico che sia ribaltato ma penserà più della 50 per cento la motivazione di andare a vivere qualche cosa e quindi rientriamo nel mondo delle activities ecco poi sappiamo che la parola esperienziale è diventata sinonimo di activities nel gergo comune mentre diciamo noi cerchiamo di dire che l'esperienza di cui si parla è un'esperienza immersiva nel territorio dove uno si coinvolge con i locals muovendo tutte le leve appunto delle relazioni delle emozioni e quindi è qualcosa di più della semplice attività andare in bicicletta in un bel bosco sicuramente una bellissima attività ed è un'esperienza della vita ma non sarebbe di per sé il turismo esperienziale to court anche perché turismo esperienziale si nutre del genius loci quindi andare in bicicletta lo posso fare ovunque nel mondo non è che devo venire nel bosco delle dolomiti per fare un giro in bicicletta ma nel bosco delle dolomiti farò delle altre cose che solo lì potrò fare ecco quindi questo solo lì ecco allora il turismo esperienziale dovessimo definirlo è dove i turisti mettono le mani in pasta seguendo le loro passioni insieme ai locals ecco allora turismo appunto se vale un 60 per cento a diminuire ormai sarà già il 50 per cento e la domanda è per un turismo esperienziale che segue le passioni è chiaro che non è 0 1 non c'è una domanda 0 e una domanda 1 ci sono infiniti scale di grigi anche queste cose che ho accennato variano in modo uno fa una vacanza stanziale sotto l'ombrellone poi magari nell'escursione di quella giornata vuole andare a fare una caccia tesoro nella città vicino alla spiaggia per esempio eccetera quindi si passa da una logica dei mercati di massa a una logica che è inevitabile che si chiama massa di mercati perché andando a seguire le passioni il mercato la domanda generale è alta di chi vuole le esperienze le passioni ma ognuno vuole la sua passione e il suo gusto per cui è come se entrassi in una gelateria devo avere un sacco di gusti e questo porta alle problematiche organizzative metodologiche perché o ho un'offerta infinita di infiniti soggetti che cercano di vendere poco o qualche cosa o mi costruisco un sistema una disciplina per fare dei semi lavorati per cui da un prodotto madre facilmente poi ne caratterizzo variazioni in funzione del del target che mi sta chiedendo l'offerta ecco qui si entra nel teorema della coda lunga di chris anderson di cui non mi sto a tediare ma diciamo che è il teorema secondo cui in margine lo si fa su tanti codici che ruotano poco se dovessimo usare un una un wording da logistico quindi i codici turistici io devo avere un un codice che da qui ne cavo fuori tanti sotto codici ciascun sotto codice non ruota molto magari non è molto richiesto ma il margine è superiore e l'integrale di di tutto questa vendita mi fa mi fa appunto fatturato ma più magari meno fatturato ma più margine ok quindi questo è anche ottimo per diciamo l'aspetto dell'overcrowding eccetera allora velocemente rileviamo un attimo il tema che abbiamo già fatto vedere in questi giorni ma appunto non so bene chi ci segue se ha sentito allora se segmento il cliente in il cliente delle esperienze diciamo delle escursioni delle attività in tre categorie cliente fai da te l'intervento di azione e il luxuri qua vediamo che sotto uno le compra su lotta singola attività anche perché deve comprare al volo free sale come si suol dire il bottone no quindi lui compra e dopo due ore la poggia fare quindi diciamo che la guida eccetera di pronto a disposizione e chiaramente non c'è molta organizzazione perché è un'attività a insomma ecco mentre più vado in alto più faccio palinsesti vi faccio cose diciamo appunto complesse e che sono gradite da un pubblico più sofisticato da una parte abbiamo discorso self service quindi non ci sono tante spiegazioni non c'è uno che spiega il telefono d'altra parte c'è la consulenza qui abbiamo prodotti che sono quelli che trovi sulle ota quello è quello compri invece sopra dobbiamo fare su misura ecco in mezzo ci sono tutti i grigi chiaramente qui abbiamo il bottone del free sale book now e qui sopra c'è su richiesta per cui ti faccio qualche cosa solo per te ora è chiaro che il luxury è qualche cosa che è il contrario dell'improvvisazione perché qui vogliono la professionalità quindi dove ho l'intermediazione non mi accontento di un prodotto fatto dal cosiddetto local friend ma anche dalla guida turistica ma che non si capisce bene cioè la guida turistica mi garantisce una visita guidata se poi si inventa che fa l'animazione col sommelier eccetera non si sa bene perché non è proprio diciamo il suo ecco allora il tema quindi diventa che finché rimango sulle otta probabilmente va benissimo improvvisare e improvvisare non è una cosa negativa ci sono ottimi prodotti fatti con in buon senso che hanno un gran successo ma diciamo se voglio attirare quei turisti di alto livello che non vuol dire solamente di alto spendenti ma anche culturalmente più elevati devo avere una professionalità che convince il consulente di viaggio l'intermediario invece che mandare quel tipo di turista in francia in spagna dove c'è gran successo di questo di mandarmeli in italia ecco quindi invece del fai da te diciamo manda nel turista esperienziale in italia ok questo diciamo è il mercato target dove si può fare molto molto bene molto ma molto bene perché i luxuri i volumi sono pochi i prezzi sono alti perché il tailor mail vuol dire che ogni dettaglio è fatto su misura per cui qualche volta costa di più la progettazione che non il viaggio in sé ecco il credito fai da te invece è un è qualche cosa di già organizzato che si mangia si si compra si mangia l'intermediazione è una mezza via appunto tra queste due soluzioni e qui si può fare un'ottima cosa perché qui abbiamo anche l'alleanza con i consulenti operatori eccetera a livello internazionale ecco allora diciamo che se la domanda è di relazione emozione relazione che porta l'emozione l'emozione che porta la memoria quindi fidelizzazione e ritorno su tematismi vari abbiamo detto dobbiamo per attirare un cliente di più alto livello dobbiamo imparare a creare un'offerta distintiva creare un'offerta distintiva prodotti innovativi e professionali con marchi di qualità che rassicurino quindi ecco che nascono club di prodotto ecco che nascono marchi che si portano dietro la professionalità la garanzia la certificazione eccetera cito un caso diciamo poi parlerò del turista dell'operatore di turismo impariziale che il caso nostro è la proposta che stiamo facendo all'italia per professionalizzarsi ma ci sono per esempio altri casi in italia magari conosciuti per esempio chi conosce le cesarine le cesarine sono esattamente questa cosa fanno una cosa solo non è un palinsesto è una cena a casa di una zia di una nonna che ti accoglie che ti fa mangiare a casa sua in modo diciamo legale con la normativa con l'hcgp con tutte le aspetti diciamo normativi corretti ti fa mangiare le cose tipiche del posto e ti racconta la vita della sua famiglia la sua vita quindi è veramente un incontro bellissimo ecco questo è stato pensato non è nato spontaneamente nato da un professionista una professoressa molto brava di marketing dell'università di bologna che ha dato vita a questa diciamo associazione che ormai c'è in tutta italia sono quasi 500 queste cesarine ecco e mi pare che 50 euro tu vai 50 euro non è pochissimo specialmente se poi lo infini dentro un viaggio ma l'esperienza ne vale la pena quindi per dire che prodotti innovativi professionali l'esempio che ho appena fatto un esempio chiaro e limpido ecco che è stato però pensato da chi ha seguito questo ragionamento di marketing che sto cercando di portarvi allora andiamo avanti abbiamo già detto appunto questi palinsesti questi prodotti flessibili perché facilmente dobbiamo adattarli quindi o faccio una cosa molto semplice la cena a casa della cesarina o se faccio un palinsesto devo poterlo adattare nel giro di due ore e mando il preventivo altrimenti l'ordine è perso no a livello di booking ecco e quindi chiaramente l'altra cosa è mettere in rete il territorio per una esperienza senza soluzione di continuità c'è il territorio non può essere una cosa e un'altra deve essere omogeneo qui cito un caso l'ho già citato in queste conferenze del dei castelli della loira che è un caso non è allora io mi ricordo che sono stato ormai trenta e tassa anni fa per cui può l'asse anche che abbiano cambiato ci sia più experience ma il castello della loira sono diventati una destinazione di 320 chilometri e è tutto fatto bene cioè il territorio è accogliente è tutto armonioso è tutto in ordine è tutto pulito cioè non è una cosa discontinua tu vedi il castello c'è l'atmosfera alla sé mangi benissimo e cose tipiche nei vari ristoranti del posto alla sera alla sera sei allo spettacolo sonne lumiere tutti i paesini che hanno il castello ti fanno il sonne lumiere che è uno spettacolo con un format molto forte molto bello dove tu sei spettatore ma è molto coinvolgente dal punto di vista emotivo musiche suoni l'evocazione storica e quindi tu hai costruito un palcoscenico di 320 chilometri e i castelli della loira sono una destinazione potente io non so se in italia abbiamo qualche cosa di potente come i castelli della loira noi abbiamo tante piccole cose disintegrate frammentate abbiamo cose bellissime ma il grosso problema che ogni cosa è in materia prima noi dobbiamo mettere insieme la materia prima e costruire appunto i palinsetti confezionare un prodotto che sta insieme ecco per questo è nato velocemente mi assumo un progetto artes proprio per portare professionalità e anche innovazione per per dire una parola come dire spero che appunto come le cesarine noi a tanti altri possono nascere per aiutare l'italia di posizionare la propria strategia di offerta quindi convincere dire venite in italia che abbiamo delle cose innovative anche perché questo mercato del turismo esperienziale è stato già preso dagli esteri quando tu arrivi in un mercato arrivi con ritardo in un mercato che è stato già preso hai l'unica leva che hai appunto o è il prezzo meglio di no o è l'innovazione quindi devi portare una formula che sia innovativa non è importante poi quanto viene venduta quella formula innovativa ma devi avere un argomento che colga l'interesse che colga l'interesse del del dell'intermediario ecco quindi abbiamo costruito il disciplinare artes cosiddetto story leading experience storia di vivere insieme che ci guida per costruire un prodotto accenno velocemente poi forse lo riprendo il disciplinare porta questa formula innovativa dello story leading che è come dire la ciliegina sulla torta ma gran parte del disciplinare funziona benissimo per qualsiasi attività di turismo esperienziale ecco questo vorrei dirlo in anticipo perché certamente ti rendiamo ti facciamo diventare quindi l'operatore di turismo esperienziale che è gestito dalla associazione assotes l'associazione degli operatori per il turismo esperienziale che è riconosciuta dal ministero dello sviluppo economico secondo la legge 4 e 2013 ci dà la possibilità di avere una professionalità o per molti anche una specializzazione quindi molte guide turistiche si specializzano io conosco tante guide che hanno fatto i nostri corsi che sono guide turistiche per cui fanno il loro sono anche guide ambientali e sono anche operatori di turismo esperienziale per cui l'insieme di queste competenze le rendono molto distintive quindi queste 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 persone che si sono specializzate hanno sicuramente qualcosa in più da dire ai propri clienti ecco infine è nato ehm ad inizio di quest'anno ehm covid non ci ha molto aiutato ma un club di prodotto nazionale che si chiama join place quindi questo per dire che arte si occupa appunto di formazione join place è la rete è il club di prodotto domani che per chi è interessato di capire che cosa è un club di prodotto però un'altra piccola formazione su questo eh per cui vi rimando alla stessa ora 12 e 30 eh domani club di prodotto eh in cui si parlerà di credito in generale perché aggregarsi è fondamentale quindi tutti quelli che hanno un prodotto fatto nello stesso modo titolari quindi non solo gli operatori ma anche quelli per cui sono stati fatti delle progettazioni story living quindi gli alberghi che eh agriturismi addirittura gli LCC eccetera quindi chi ha un prodotto che è molto distintivo si può aggregare e dire io faccio parte di questo club di prodotto che ha un prodotto fatto in un certo modo ok e il mio prodotto e io ho sono titolare quindi possiedo il diritto intellettuale di questo prodotto e eh ho anche un marco di qualità che join place mi dà che dice che il prodotto è certificato secondo disciplinare per cui prodotto certificato realizzato da un professionista dell'operatore di turismo differenziale garanzie totali verso il mercato che il prodotto è di qualità definita e con la sicurezza eh di tutti gli aspetti normativi e assicurativi che merita allora a questo punto entriamo nel merito della professione dell'operatore di turismo esperienziale allora chi è l'operatore di turismo esperienziale è un professionista quindi non è un tour operator è una persona che è un professionista è un freelance che si è specializzato sul tema del turismo esperienziale avendo acquisito metodo e disciplina e processi ok perché la professione passa attraverso i metodi ok qui lui sa creare organizzare ed erogare sono tre mestieri diversi no quindi ci vuole un po' di creatività dobbiamo mettere a organizzarlo che chi è creativo non sempre organizzativo e poi lo deve anche erogare quindi lui diventa il group leader che insieme le varie persone un prodotto eh turistico attorno alle proprie passioni fino alla complessità dello story living vuol dire che lui ha almeno un prodotto che è stato certificato in altre parole imparare a fare un prodotto story living vuol dire diventare gli chef se posso usare questa metafora astronomica del turismo esperienziale acquisisco delle metodologie delle competenze fortissime che mi consentono di fare il progetto il prodotto che probabilmente al momento è il più complesso che trovi sul mercato che è un prodotto story living se io ho imparato una cosa più complessa posso anche poi fare le cose più semplici eh mantenendo la metafora eh gastronomica o mi ricordo di aver visto in televisione il famoso chef eh cracco eh fare l'omelette che tutti facciamo ma come l'ha fatta lui non l'ha fatta nessuno cioè proprio un metodo come l'ha fatta tecnicamente l'ha fatta veramente bene ecco che che io sono rimasto quella volta molto molto colpito quindi se ho imparato a fare una cosa dove sono entrato in tutta una serie di dettagli che curano aspetti eh a parte appunto l'innovazione dello story living ma come vedremo la curva dell'emozione una serie di dettagli tutto questo bagaglio di competenza che so agire me la porto dietro anche per fare una singola attività perché per esempio la gestione dell'emozione va fatta in un certo modo non non si non si improvvisa o bene si può improvvisare e va tutto bene ma si può anche costruire un sistema che fa il boost dell'emozione in un certo modo quali prerequisiti per diventare un buon otte otte operatore di turismo esperienziale in sigla beh ci vuole bisogna sapere sorridere se tu non sai sorridere non puoi creare organizzare ed erogare potresti magari creare organizzare ma erogare faresti fatica perché per diciamo che qui si centra molto la relazione quindi bisogna poi saper mettere insieme le persone quindi per le guide qui sono bravissime avere delle passioni di cui essere esperto esperto vuol dire avere dei titoli o di studio o di reputazione che dicono io sono una guida turistica sono anche sommelier allora certamente posso fare una bella animazione in cui navigando anche sugli aspetti artistici eccetera della mia città ma posso anche parlare del vino ho in mente una guida turistica di milano che appunto è un ottimo otte che con cui speriamo a breve uscirà questa serie di prodotti che si chiamano viaggi nel tempo per foodies a milano che di fatto viaggi nel tempo per foodies vanno a rivedere le tradizioni enogastronomiche di milano partendo anche dal medioevo ma e quindi mescolando aspetti tipici della guida turistica con aspetti rurali ed enogastronomici perché la guida si è specializzata anche su queste cose chi è che potrebbe diventare otte allora certamente in primis io senza togliere niente agli altri la guida turistica primo motivo perché può fare la guida turistica un otte per la legge implica che un un operatore di turismo tendenziale non può invadere la professione di altri ok adesso non entro troppo nel merito magari chi fosse interessato può scrivermi o comunque ci sono altri webinar nel nostro sito dove entriamo più nel dettaglio quindi la guida turistica la guida naturalistica la guida ciclistica gli accompagnatori i sommelier i cuochi i contadini i fotografi gli artisti gli artigiani ho messo anche i clochard perché mi ricordo di aver visto a san francisco una un animazione proprio di un senza tetto perché il genio sloci di san francisco purtroppo sono anche gli homeless e quindi questo questo homeless questo clochard ha fatto un prodotto turistico venduto su uno delle otta una volta casualmente me ne sono imbattuto quindi diciamo che è importante avere un qualche cosa di cui sei esperto e il prodotto ruota intorno a quella cosa lì allora andiamo avanti i prerequisiti un diploma di scuola superiore o cultura di base equivalente evidenti capacità relazionali abbiamo detto empatia predisposizione alla collaborazione perché tu devi mettere insieme siccome un prodotto di storia divi metti insieme sempre quattro cinque sei fornitori sei esseri umani diversi più o meno insomma allora mettere insieme la gente non è facile quindi tu devi essere predisposto a allestire qualche cosa facendo collaborare le persone e quindi ovviamente un'esperienza pregressa nella conduzione eccetera ecco le lingue almeno l'inglese è obbligatorio no non è obbligatorio però se non sei l'inglese parla solo per gli italiani sì potresti mettere un interprete ma non è la stessa cosa l'inglese lo parlano quasi tutti per cui almeno l'inglese se poi hai un target di tedeschi ma anche tedesco forse eccetera ecco ho dimenticato di dire che se avete delle domande in coda a questa diciamo piccola lezione piccola introduzione potete fare delle domande potete già scriverle poi alla fine lasciamo casomai un po di elementi per parlare allora le relazioni del lotte notte una figura che si è specializzata a fare questo e ha da una parte il mercato e dall'altra parte al territorio da una parte quindi nel territorio lui deve mettere insieme i suoi fornitori i suoi partner ma anche le istituzioni pubbliche private perché sono prodotti che possono anche diventare eventi ho in mente una storia fatta a quartù in sardegna dove l'animazione era coinvolgere i villeggianti a preparare la festa di matrimonio di due sposi e alla sera fare l'animazione per i villeggianti quindi il turista ecco c'è una delle versioni siccome lo sponsor qui era il comune era coinvolgere il turista nell'animazione che faremo alla sera per i turisti ecco non so se capite questo doppio doppio gioco quindi in questo caso il comune era coinvolto o a Cividale abbiamo una storia dove il comune è il committente che vuole i blogger per fare la promozione della città che è poco turistica allora i turisti giocano a fare i blogger e vanno a vedere tutte le cose della città che non diventa una visita guidata ma diventa proprio un incontro con l'artigiano con quello che fa la cubana che è un dolce tipico certamente anche gli aspetti diciamo architettonici eccetera e alla fine restituiscono all'assessore che li ha incaricati e l'assessore si presta a fare questo gli restituiscono tutto quello che hanno fatto l'assessore ringrazia tantissimo rimane tutto diciamo visibile poi su instagram eccetera e quindi si crea la famosa instagram abilità grande festa a brindisi e se c'è anche previsto il transo quindi ecco una cosa di questo tipo per esempio ha coinvolto una marea di persone del territorio di Cividale passano questi turisti e può diventare evento o meglio l'assessorato di Cividale lo considera un evento che loro ogni tanto fanno per promuovere la città ecco quindi dall'altra parte quindi questo fare rete fa sì che se posso fare un esempio con il bosco nel bosco una collina che è un bosco è tenuta insieme dagli alberi che gli alberi tengono insieme lotte come un albero le radici lotte mette le sue radici nel territorio tiene insieme ecco quello che noi facciamo tanta fatica a fare lotte è un facilitatore di rete di micro reti quindi è un ruolo fondamentale per soggetti che altrimenti sarebbero spezzettati perché nel palinsesto e con la logica dello storia di vivi li metti insieme in una logica narrativa ma ci vuole un regista ecco lotte è il regista oltre a essere group leader poi lui si rivolge o direttamente al turista se ne ha la possibilità o tramite la filiera oppure si inserisce appunto in un club di prodotto in questo caso noi abbiamo il joint place che è un club di prodotto ma potrebbe fare anche degli altri club di prodotto su tematiche molto più spinta eccetera allora velocemente di accenno a meno per sapere ma cos'è che impara a fare disciplinare vi do dei titoli ecco noi facciamo formazione su queste cose quindi ovviamente ci va qualche giorno per poter capire entrare in questa logica allora disciplinare ha nove foglie di lavoro è un file excel con nove foglie di lavoro dove il primo è tirare fuori i tematismi le passioni si chiama una grafica perché c'è la numero uno numero due numero tre numero quattro fino a quattro eh che può essere erogato in tanti modi diversi eh a seconda del appunto dell'inventiva della creatività la numero uno deve sempre essere quella del gruppo leader perché quando uno è appassionato di qualche cosa gli brillano gli occhi e brillare gli occhi fa nascere l'amicizia è un moltiplicatore di amicizia ecco poi il secondo foglio mette quattro ingredienti e sei caratteristiche quattro ingredienti che sono essere lì quindi solo qui può capitare questo questa cosa l'intrattenimento quindi guardare ascoltare e poi c'è lo sperimentare e poi c'è l'imparare che non è ascoltare vuol dire mi hai spiegato io poi lo faccio ok quindi avere questi quattro ingredienti in tutti i prodotti non è una cosa semplicissima bisogna pensarci bene le sei caratteristiche invece che sono sei caratteristiche che sono l'esclusività del prodotto solo per te l'autenticità è tutto vero eh la familiarità sentirsi a casa la personalizzabilità la capacità di renderlo personale per il target poi la memorabilità che vuol dire tangibile intangibile quindi cosa mi rimane di tangibile sulla memoria eh e che cosa eh scusate fatto confusione e che cosa e poi la irripe la unicità e ripetibilità quindi un prodotto che non ha pari sul mercato perché la complessità di questo mette in pot di situazioni lo rende unico e la irripetibilità cioè il prossimo gruppo che partecipa sarà diverso per qualche motivo per come è fatto il prodotto specialmente se c'è un aspetto creativo non sarà mai uguale e che fa sì che ognuno lo viva in un modo diverso e lo testimonia anche in un modo diverso quindi le sei caratteristiche e i quattro ingredienti ci dicono le cose che faremo ma sono anche i motori dell'emozione sono uno dei motori dell'emozione ecco poi certamente i itinerari eh li prepariamo a meno un paio diciamo versione base quattro ore cerchiamo sempre di avere anche una versione corta perché poi ci sono i break tour il turista a poco tempo eccetera gli attori cioè i fornitori ecco e la storia e lo storyboard per cui diciamo che la l'involucro che tiene insieme un itinerario che sparisce dal punto di vista del turista turista non vede più il itinerario in questa escursione questa cosa non è che vede faccio questo poi faccio questo vede che c'è una missione da compiere deve fare una missione e tutto questo è scandito con uno storyboard poi abbiamo la gestione del prezzo la gestione normativa e dei rischi perché il turismo esperienziale è assai più pericoloso del turismo normale c'è tutta una serie di cose che mediamente non vengono considerate chi fa turismo esperienziale perché se uno non le sa non gli viene neanche in mente di avere alcune accortezze per cui spesso ci sono prodotti magari molto belli ma fuori legge totalmente totalmente fuori legge che è uno dei problemi che ci viene improverato la mancanza di sicurezza perché essere fuori legge vuol dire che sono prodotti a rischio specialmente sul tema enogastronomico spesso la gente fa cose che non potrebbe fare ecco poi c'è la scheda web eccetera allora adesso senza entrare nei dettagli perché se no diventerebbe appunto lunga cerco di farvi capire un attimo ecco lo storytelling allo storytelling vuol dire che dall'itinerario io costruisco una storia quindi è un nuovo genere di intrattenimento appunto memorabile unico e ripetibile ecco allora qui avevo lasciato per chi fosse interessato ecco la storia a nove blocchi ecco quindi ha un trauma che il motivo che spinge l'azione l'impresa che l'obiettivo da raggiungere tre il protagonista che deve fare l'impresa e quattro all'ostacolo le attività che dobbiamo fare per realizzare l'impresa cinque sono gli aiutanti sei gli avversari sette gli oggetti magici è un nome tecnico i mezzi che consentono di superare l'ostacolo il tesoro i benefici che l'impresa porta con sé ecco tutta questa cosa che messa giù così potrebbe spaventare però l'ho fatto apposta di solito ne riporto una versione semplificata appunto per non spaventare qui c'è un problema da risolvere che si chiama trauma in gergo un'impresa da compiere il turista è sempre il protagonista è una leggerissima vela narrativa un leggerissimo gioco di ruolo ma leggerissimo veramente quasi quasi non si distingue però mi serve per portare il turista dimenticarsi di essere turista lui entra dentro un'impresa da compiere e la deve compiere e per cui lui farà tutte le stesse cose che avrebbe fatto ehm come eh visita guidata come eh itinerario esperienziale solamente che lui diciamo deve compiere la missione questo porta eh adrenalina porta eh adrenalina poca media tanta dipende dalle situazioni dipende dal target ma molta emozione molto divertimento quindi abbiamo aspetti culturali un melting pot in situazione questo provoca forte emozione ma forte forte e forte emozione porta la memoria ecco per cui dobbiamo imparare ad amministrare questa cosa la seconda cosa che impariamo e l'operatore è allora quello l'aspetto di come si fa la storia quella roba lì che vi ho fatto vedere scusate torno solo un secondo questa ha tremila anni quindi qui non c'è innovazione l'innovazione l'innovazione è usata nel turismo questi sono i metodi con cui Esopo faceva le sue storie tremila anni fa in Grecia i libri sono fatti la narrativa i romanzi sono fatti con questo schema i film sono fatti con questi schemi ok quindi noi stiamo lo storytelling è fatto con questo schema quindi stiamo riportando una metodologia che già esiste la stiamo portando dentro il turismo questa è l'innovazione ok e dobbiamo farlo senza fare messa in scena cioè senza perdere l'autenticità del vissuto degli incontri eccetera ok per cui una cosa abbastanza difficile da fare perché se uno non è attento rischia di fare appunto la messa in scena cosa che non vogliamo fare a maggior ragione quest'altra curva che vi faccio vedere è fondamentale perché la gestione della relazione emozione memoria non è lasciata al caso ma c'è una curva che porta a un culmine vedete da una fase quindi diciamo che il il tempo in cui dura la mia escursione qui stiamo parlando di prodotti che durano una giornata che chiaramente diventano le ciliegie di un viaggio che magari dura dieci giorni quindi non è detto che nel viaggio di dieci giorni io faccio dieci story living magari ne faccio due però quei due devono lasciare un impatto potente di memoria ecco allora in questo caso come vedete noi dobbiamo segmentare questa costruzione in un momento di contatto ogni fase ha una sua prescrizione deve essere fatta in un certo modo poi uno lo fa come vuole lui ma all'interno di un binario ecco la familiarità quindi ci conosciamo diventiamo una squadra l'immersione comincia l'avventura comincia la comincia la nostra storia l'identificazione è quando sto realizzando l'impresa fino al culmine in cui l'impresa è realizzata quindi dicevole il massimo dell'emozione poi c'è l'immersione in cui di solito si fa grande festa si mangia e si beve non è obbligatorio ma è abbastanza plausibile e poi la distanziazione quando ci lasciamo quindi o e poi la trasformazione quando uno diciamo ha lasciato il contesto ma comincia a ricordare quello che è avvenuto questi sette momenti che vengono diciamo da studi universitari quindi anche questi noi non abbiamo inventato niente nel senso che tutte le cose che vi sto dicendo esistevano però separate una dall'altra noi abbiamo messo insieme in un disciplinare che però costruisce qualche cosa che non c'era lo story living è una vera novità ok allora allora uno impara a fare queste esperienze adesso non c'è il tempo non vi faccio vedere esempi trovate tutti sul sito join place e sul sul progetto artes e sul canale web ne trovate chi che ne volete gli esempi vediamo invece professionalmente quali sono gli altri sbocchi quindi uno diventa capace di fare questa cosa di creare organizzare erogare prodotti di questo tipo e lui può collegarsi con la professione del silencio dell'incoming manager certamente o viceversa l'incoming manager sarebbe opportuno che fosse anche un note che così non solo teorizza ma mette le mani in pasta anche lui però teorizzare troppo non va bene qui per fare progetti integrati ed esperienziali di destinazione quindi qui è chiaro che diciamo che questa cosa riguarda quindi un note può diciamo entrare in relazione o collaborare con le dmo con i galli con le apt le pro loco i parchi tour operatori locali agente di produzione di produzione non turistica di produzione gastronomica artigianato artigiani enti di formazione perfino la cei la la il parroco che vuol fare qualche cosa di innovativo anche sul turismo ecco poi c'è tutto il tema degli infopoint che apre un'opportunità per cui se io voglio diventare piccolo imprenditore e prendo dal comune la gestione dell'infopoint il comune mi dà anche quattro soldi però sono meno di quelli che dovrebbe mettere se dovesse mettere degli impiegati io poi devo commercializzare delle cose allora ecco che avere un prodotto distintivo oltre a tutte le altre cose che rimangono chiaramente ma avere qualche cosa che mi distingue diciamo mi aiuta a fare bene un'attività commerciale anche nell'infopoint ancora l'experience manager l'experience consultant progettista story living allora hai imparato a fare queste cose e sei bravo a creare organizzare magari c'è anche capace di capire poi il marketing allora tu puoi fare progetti per gli hotel per gli agriturismi puoi progettare lo story living per terzi ok in modo che questi abbiano delle attrazioni che danno valore distintivo quindi per il mondo dell'hospitality o delle imprese di eccellenza o altri artigiani locali ecco puoi anche essere un manager delle esperienze quindi appunto collaborare adesso lo vedremo vendere il territorio no quindi ecco consulente di web marketing perché il turismo esperienziale fatto in questo modo che diventa attrazione e anche contenuto il contenuto diventa il diventa l'argomento che promuovo invece non solo appunto letti muri eccetera ma promuovo quello che tu potrai tu caro cliente potrai vivere questa esperienza come l'esperienza è eclatante e memorabile unica ripetibile c'era solo io ti motivo a venire qui anche in posti dove non c'è il colosseo quindi molto utile questo per chi vuole distinguersi come eh destinazione o come infrastruttura ah certamente molto bene in tutta la gestione di eventi mais team building eccetera wedding pre wedding addio celibato addio nubilato queste cose sono favolose perché diciamo sono cose qualificanti ecco altri sbocchi ancora ecco uno potrebbe lavorare in albergo come concierge manager che non vuol dire fare il concierge vuol dire vedere gli ansilleri per cui se io ho quindi l'ansilleri non è il fogliettino messo lì che nessuno lo calcola diventa una parte del business dell'hotel allora io che ho imparato a governare questi aspetti come operatore di bisogno inferenziale se poi addirittura l'hotel ha fatto anche uno story living o fa dell'esperienziale che possiede in qualche modo allora io amministro la vendita di queste di questi ansilleri oppure eh sono un consulente di viaggio e mi aggancio a una delle tante tante sono tante delle dei franchising italiani che fanno outgoing ma magari fanno anche incoming l'anno prossimo eh avremo diciamo che tutti quelli che facevano outgoing devono per forza fare incoming per cui c'è spazio anche per diventare consulente di viaggio o meglio eh se io sono capace di erogare questi prodotti e se sono dentro un club di prodotto posso vendere il mio prodotto ma anche quello degli altri membri del club di prodotto lo dico perché in joint place avviene esattamente così cioè tutti gli aderenti possono vendere il prodotto di altri perché il club di prodotto dà la direzione tecnica a chi la richiede quindi dentro opportune diciamo eh condizioni io posso anche creare dei pacchetti eccetera io aderente al credito prodotto ok quindi lui può rispondere alla domanda ma che cosa posso fare a destinazione beh ti organizzo io tutto quanto e quindi potrebbe anche aprire una città di servizi vedere esperienze locali facendo leva sulle proprie conoscenze tu hai degli amici che stanno in giro con il mondo ti mandano i clienti benissimo allora aprire una città di servizi e fai questo e quindi se matura una competenza sulla programmazione un'oltre puoi imparare anche a creare pacchetti turistici programmazione turistica è cosa diversa da progettazione di experience che programmare vuol dire proprio fare il viaggio e il lavoro del direttore tecnico ora si può anche fare senza essere direttori tecnici ma appoggiandosi a una direzione tecnica però certamente devi avere un minimo di competenze diciamo che lotte non è che è immediatamente capace di programmare però o è già direttore tecnico e ce ne sono tantissimi in giro o si può specializzare anche senza diventare direttore tecnico e collaborare con il tour operator per fare questo ecco questo è appunto il caso del franchising join place è una delle opportunità possibili ecco dico due parole ancora su join place come opportunità per l'operatore di turismo esperienziale è un credito prodotto nazionale dei titolari di un prodotto realizzato secondo disciplinare storie di artesse e il prodotto è stato fatto da un otto per cui l'albergo che è titolare del prodotto il prodotto non l'ha fatto lui gliel'ha progettato magari un otto ok chi è che aderisce chi ha il vantaggio dell'economia di scala conseguente andare sul mercato con un marchio unico che vuol dire noi abbiamo come dire un prodotto i prodotti sono diversissimi tra di loro ma il lo scheletro è lo stesso quindi possono entrare gli otto ovviamente di assotes gli hotel gli agriturismi le aziende le cantine gli artigiani eccetera quindi diciamo che qui uno che è un otto e che vuole anche fare un po da promozione da vendita la consulente quindi ha da fare sì che vuole infatti noi abbiamo già nella nostra rete diverse persone che stanno operando in questo modo eccetera adesso qui ma diciamo che allora vediamo un po ecco sono dato un po lungo però avremmo anche terminato la grande battuta è con il progetto artes quindi anche con gli otte l'italia può far felice tutto il mondo ora servono gli italiani cioè lotte ha questa missione di far felici le persone che incontra qui c'è questa bellissima fotografia che io non mi stancherò mai di farla vedere dove la nostra imma è la prima a sinistra ha portato avanti un gruppo di persone del new jersey e io quando ricevo amatera quando ho ricevuto questa questa foto dico caspita alla fine erano molto contenti no no dice questa foto è stata fatta un quarto d'ora dopo l'inizio del dell'avventura quindi erano già casati dopo 15 minuti ecco gli occhi di questi amici del new jersey esprimono qualche cosa di incredibile quindi il mondo specialmente adesso dove c'è tanta sofferenza questo covi veramente la depressione pervasiva che c'è dappertutto appena si riprenderà la gente ha bisogno di sentirsi accolta ecco un'accoglienza che tocca a corde profonde e quindi questo diciamo è un modo professionale per farlo bene consapevolmente mettendo a frutto il territorio la rete tutte le competenze di cui siamo capaci ecco direi che così abbiamo finito ecco adesso io vediamo un po se abbiamo per caso qualche domanda ecco ecco qui c'è sì sì abbiamo qualche domanda allora innanzitutto mi chiedono se si possono avere le slide ci lasciano un indirizzo mail beh diciamo che il quello che posso dire di sicuro che il il video rimane fino al 30 dentro la piattaforma poi verrà pubblicato della piattaforma di artes per cui potrete risentirlo rivedere anche le slide ok dopodiché mi chiedono allora c'è una bella domanda ok allora se il target non è luxury come si riesce a calibrare il prezzo adatto ad un pubblico che non è disposto a pagare tanto e allo stesso tempo soddisfacente per tutte le professionalità e servizi coinvolti molto la domanda è perfetta allora come avete visto dall'inizio del discorso il target è anche luxury ma è il target di mezzo quindi è un target che cerca qualche cosa di particolare che comunque può mettere giù qualche soldino effettivamente questa domanda te la siamo posta anche noi ma devo dire che l'esperienza di vendita ci ha fatto vedere che nella versione si possono creare delle versioni più economiche chiaramente non per due persone perché due persone comincia a essere costoso ma mi ricordo che in puglia abbiamo fatto una caccia al tesoro a otranto culturale quindi sul mosaico alla caccia del sacro graal sul mosaico di otranto per un gruppo di ciclisti che amici spugliesi ecco cosa avevano pagato hanno pagato mi pare 25 euro a testa è chiaro che abbiamo tolto un sacco di voci di costo loro erano una ventina e siamo riusciti a fare un ottimo servizio erano contentissimi felici per cui diciamo che il prodotto può essere costruito questo dipende anche dal talento del lotte noi diamo una mano sempre però da diciamo da 30 può andare da 20 30 euro a 500 euro a testa dipende cosa si metti dentro quello che non cambia mai sono due cose la narrazione quindi l'intrigo narrativo il gioco che non cambia quindi quello rimane costante e le persone che si incontrano perché è vero che se io vado a fare una degustazione la devo pagare ma magari passo incrocio il parroco che amico del lotte e il parroco è un locker che non vuole soldi vabbè magari lasceremo una mancia ma come dire o un amico che passo dal negoziante da un saluto ecco l'incontro con questi local che è vero che è genuino crea forte impatto specialmente quando anche quello che diciamo noi c'è un cassetto degli argomenti per cui sappiamo anche cosa ci racconteranno cosa ci faranno vivere le cose che ci dicono potrebbero rimanere per sempre nella memoria quindi le voci di costo lo arricchiscono per appunto cibo o qualche gadget che magari loro fanno ma possiamo spesso non in tutti i prodotti ma spesso si può anche semplificare per arrivare a diciamo a tutte le tasche è chiaro che a quel punto però devo sapere organizzare perché 20 30 euro vuol dire che però me ne devo portare meno 10 15 se non ne ho 15 non pago le spese e non si guadagna insomma per cui però l'esperienza ci ha fatto vedere che se il prodotto non era nato per gli italiani questo prodotto nato per gli stranieri in particolare per il mondo anglofono nel tempo abbiamo scoperto che piace da matti e cinesi da matti cinesi diventano matti piace tantissimo e piace molto anche gli italiani e si può fare ecco questo non pensavamo ma gli italiani gli piace tanto però va confezionato in un modo cioè lo storyboard rimane lo stesso alcuni costi vengono salvati ma loro si divertono lo stesso sono contenti ok un'altra domanda allora per diventare otta non accorre non occorre avere una licenza per diventare otte qui qui è scritto otta però sì otte non so se c'è un problema di wording otta sono le online tour agency otte otte è l'operatore di turismo esperienziale allora se lui è una guida turistica può fare la guida altrimenti non la può fare a matera abbiamo appunto dei prodotti dove lotte si fa accompagnare da una guida per cui è chiaro che a questo punto la guida è la cosa migliore perché non ha due costi da uno solo cioè è otte e anche però in alcuni casi dove c'è in atto la professione della guida e bisogna portarsi la guida e quindi le guide devono essere contente perché nessuno va in modo abusivo a rubargli il loro mestiere in questo caso lotte diventa l'animatore che porta in giro che tiene insieme l'aspetto narrativo e questo lo può fare perché fa parte della sua mansione quindi diciamo che quando siamo partiti abbiamo fatto uno studio molto attento sui mansionari di legge della guida dell'accompagnatore e del lotte sono tre cose diverse ok la legge 4 2013 che consente all'associazione professionale di gestire gli iscritti i registrati a questo tipo di professione c'è proprio scritto che è vietato dalla legge mettersi a fare il lavoro di altri che quindi la guida non la può fare ecco ok proseguiamo allora se hanno un'altra domanda quindi per poter partecipare il corso ote è necessario avere un proprio progetto da dover sviluppare si è necessario diciamo che il corso ote che noi facciamo porta alla il corso base le porta all'impostazione diciamo non è non è pronto poi da commercializzare ma noi trasferiamo il metodo e uno diciamo dovrebbe essere in grado aver capito come funziona il metodo e ha una bozza di un prodotto poi con il corso avanzato addirittura portiamo gli ote a realizzare un cioè portiamo una persona a diventare ote quindi ad avere un prodotto commercializzabile perché per diventare ote in assotesse devi avere un prodotto commercializzato da un tour operator ok quindi un prodotto fatto secondo il metodo story living e ci vuole un tour operator che sia già diciamo con cui hai un contratto di distribuzione di quel prodotto queste due cose fanno sì che uno può essere iscritto ad assotesi ok un'altra ancora allora se otteniamo la licenza di operatore esperienziale riconosciuto dal muse come si fa a non entrare in conflitto con le guide turistiche se rimaniamo nell'ambito della nostra struttura e organizziamo una cena va bene ma se li accompagniamo in cantina o al mercato per scegliere i prodotti da cucinare oppure accompagnarli per i sentieri storici le vecchie mulattiere non entreremo in conflitto allora certo ci sono situazioni in cui si entra in conflitto e infatti fare lotte non vuol dire fare la guida è un altro mestiere adesso dico una cosa che magari ci vorrebbe più tempo da spiegare se però tu collabori con un tour operator e poi chiudiamo perché mi sembra che siamo già arrivati alle 12 e 30 alle 13 e 30 esatto che il tempo è scaduto maurizio abbiamo una un'esperienza una diciamo che vuole condividere magari della giro sì ok sì allora non puoi fare la guida non puoi fare la guida ambientale escursionistica per cui se fai un trekking devi essere una guida ambientale se no tu non hai la competenza di portare in giro la gente fare trekking se però io devo accompagnare come dire e non devo fare la guida non c'è un trekking non c'è niente posso fare l'accompagnatore allora la legge e qua però si entra in un ginepraio di situazione per cui prendetela al momento in modo grossolano la legge consente a un tour operator di delegarti come accompagnatore anche se tu non sei non hai la licenza di accompagnatore ecco non so se lo ripeto quindi se la tua attività perché sei sommelier perché perché di fatto non sei un accompagnatore ma fai un'attività di accompagnatore molto spesso bisogna vedere bene nel caso perché qui ci muoviamo sul filo del rasoio molto spesso ci può essere un mandato proprio un piccolo contrattino anche giornaliero che ti dà il l'agenzia se poi sei un fotografo il problema non ce l'hai il fotografo poi porta in giro la gente per fare fotografie è chiaro che il fotografo nelle esperienze che andremo a vivere ti fa fare le fotografie o ti fa le fotografie non ti fa la guida turistica ecco allora come capite il turismo è diciamo una roba una materia che normativamente è molto complessa vi assicuro che per legge questa professione non può essere abusiva per cui volta per volta si va a vedere che non ci siano appunto infrazioni ripeto se c'è bisogno della guida e non sei la guida bisogna avere un fornitore che fa la guida perché tu metti insieme diversi fornitori è chiaro che i costi aumentano chiaro però in alcuni casi inevitabile ecco ok niente avevamo quest'altra esperienza un po' elaborata da magari me la mandi me la mandi magari se posso rispondere risponderò personalmente certo certo io vi ringrazio per l'attenzione spero che sia stato utile è chiaro che siamo entrati in una professione che è complessa e che è trasversale ecco questo posso dire alla fine il turismo esperienziale tocca qualsiasi cosa della vita di un territorio tocca tutto perché è olistico e come dire è il territorio quindi andiamo che ne so dall'esperto di franco bollo all'esperto di vino all'esperto dei tortellini all'esperto dei quadri di michelangelo quindi abbiamo tutto quello che si vive nel territorio quindi è molto complessa come esperienza l'importante è aver capito che si diventa bravi su un aspetto di cui si esperti e a coordinare altri in una piccola avventura ecco questa cosa è potente ecco è potente e può essere una leva forte per situazioni anche professionali ma anche di destinazione o anche gli ospitali ti